ciao a tutti ragazzi qui è prasti sto girando un un video molto basico il livello il no limit 50 si non il 50 e il no limit 10 zoom di pokerstars.it niente stavendo un video molto semplice mi sono messo della musica di sotto vediamo un po non ho aperto neanche all the manager faremo qualcosa proprio di very very simple in maniera da dare a tutte le persone che ci sono ovviamente quante più informazioni possibili per poter superare questi livelli soprattutto iniziali allora inizierò subito con le descrizioni delle mani tavoli in alto a sinistra il numero 1 in alto a destra il numero 2 facile in alto in alto nel mio monitor voi probabilmente li vedete tutti in basso allora la mano di primo fatto una cbetta anche se erano in tre i giocatori perché credo sia la scelta migliore prendere iniziative in quelle situazioni con due giocatori che non dovrebbero essere dei regular quindi dei giocatori particolarmente aggressivi o comunque dei giocatori particolarmente ostici e in caso differente non è neanche totalmente errato checkfoldare perché quando facciamo una puntata in quelle situazioni dobbiamo andare sempre a considerare che avremo due giocatori contro e quindi la percentuale di volte che devono foldare è sicuramente superiore rispetto alla media il lavoro di questi primi minuti sarà quello di andare a mettere tante notine verde ai nostri giocatori fish e andare a individuare subito ovviamente irregular perché perché sono quei tipi di giocatori che ci possono dare più fastidio allora questo giocatore ha l'impato ho completato lo small proviamo a isolarci e prenderci subito il buio non va bene allora quando cade un board del genere in genere avrei cibettato una size molto piccola in questo caso vado a raisare ovviamente per valore qui vado a foldare 8 7 suited da small blind capisco le volte in cui qualcuno può essere tentato dal call ma non lo ritengo sicuramente una scelta idonea questo gioca due tavoli zoom senza ricaricare jack se off un po marginale preferisco foldare anche qui direi che un po abbastanza lineare qui andiamo ad aprire una size abbastanza normale sembrano tre giocatori comunque superiore allo stack ordinario vediamo questo samari sulla desto samari se preferite quattro tavoli zoom facciamo con ovviamente con 33 mentre borgi ci tribetta non so neanche se è un rego quindi nel dubbio io mi faccio i fattacci miei ovviamente quella era un ottimo mano per fare una for bet in blef ma cioè diciamo che presentarci senza avere idea se questo giocatore è un regular o se un giocatore totalmente occasionale non mi sembra una scelta idonea anche perché ultimamente molto di moda anche con ragione flattare le for bet quindi presentarmi no info non mi sembra sicuramente una delle scelte migliori vediamo se riusciamo a tenere anche delle linee unconventional ai got a banana due tavoli zoom ok andiamo subito a fare una puntata grande mentre qui si potrebbe anche chiamare ma evitiamo queste situazioni estremamente marginali la puntata che ho fatto sulla destra quindi ho scelto una size abbastanza grande per cercare di mettere subito una grande prefezione ma cari manfi io me lo ricordo come un reg abbastanza debole ma qua si può sia tribetare che callare abbiamo alla destra un giocatore che sembra essere occasionale un altro che non lo so mi limita al col in genere queste situazioni ripeto sono molto molto borderline si dicono c'è nel senso al limite si possono sia prendere delle scelte aggressive che delle scelte passive non si sbaglia mai in questi casi ma prima mano abbiamo pair più due back door mi sembra la scelta migliore quella di fare check d'altronde nel suo range di check ci possono essere delle mani con le quali check fold e pace in quel caso ovviamente noi passiamo non c'è nulla di male oppure delle mani con le quali sta effettuando una di lei chiaramente una volta che lo spot si mette in questa maniera è chiaro che noi dovremmo foldare al river perché non rappresentiamo assolutamente nulla non ha senso rilanciare in questi spot così come non ha molto senso bettare qui faremo una puntata abbastanza piccola e qui checkeremo back alla fine se come vedete esatto avevo una mano come asso jack non è che cambia moltissimo cioè fold e basta allora qui in alto a destra guardate cosa è successo abbiamo full però con lotto come pair mentre lui se ha un asso ovviamente ci pagherà tutto quindi vado subito a fare una size molto robusta potevo scrivere anche 5 tanto alla fine se pensa se ha un asso non ci pensa e chiama qui probabilmente se sta pensando è perché avrà qualcosa di più debole stavo ritornando a discutere un attimino sulla mano di prima quella con 8 e 7 se aveva senso bettare il river ma credo che su quel river l'avversario sia molto spesso in check call quindi in quel caso dubito fortemente che si abbia a che fare con una mano diversa da quella che poi mi ha girato e soprattutto con una situazione differente nel senso che faccio veramente tanta fatica a credere che in quello spot il mio avversario possa passare qui quando il mio avversario non betta per due strette di fila provo a fare il turn molto più grande provando a rappresentare un 8 e allora oddio in questo caso il punto qual è che se ha delle doppie non so se riesco a fargli di foldare se ha un flash throw probabilmente avrebbe bettato lui secondo me il jack non è buono quindi vado a trasformare la mano in blef e provo a fargli foldare tutto ciò che non è ovviamente colore addirittura siamo riusciti a value bettare al river cioè scandaloso il mio avversario aveva 9 9 ha fatto un call diciamo non bellissimo se vogliamo usare questa parola e quali sono le motivazioni che possono portare quell'avversario a fare questo call ci conosce quindi pensa che bleffiamo tanto boh io non gioco da un sacco quindi non capisco come si è potuto uscire questa questa pensata però vabbè altro caso pensa che siamo molto polarizzati tra colore il nulla però quando faccio una delay lì non ho molto spesso tranti blef pure boh non lo so però vabbè alla fine quello che dobbiamo subito comprendere che contro quell'avversario dovremo sicuramente cercare di utilizzare un range che sia molto spostato verso il valore in generale soprattutto nelle board texture cioè in quelle costruzioni e costituzioni di board dove ci sono tanti blef rappresentati perché non vi crede appunto allora questa è una texture dove possiamo arrenderci tranquillamente con la nostra mano in questi casi c'è pochissimo da dire non c'è neanche da perdere un minuto si può provare a delayare anche qui fare qualcosa del genere ma avete visto che la situazione non è eccellente quindi qui continuiamo a essere squizzati stavolta da questo qui potrebbe essere un regolo qui ripeto non mi interessa ho molte altre mani con cui prendere valore in quello spot e soprattutto se vogliamo anche che ne so fare una parte più complessa e quindi che ne so andare a ragionare in termini di difesa che ripeto a un no limit 10 ce ne può sbattere proprio ce ne può fregarde meno ma qualora ci volesse interessare comunque non credo che quella mano sia necessaria da difendere ok questo all'impatto non ha stack pieno lo individuiamo come occasionale ci sono un paio di nick tipo sto trullo cash che dovrebbe essere lo stesso di prima se non ricordo male che è quello che giova a quattro tavoli quindi come vedete a volte individuiamo dei reg ma non sono neanche dei reg di chissà che entità di difficoltà qui proviamo a isolarci facciamo una size molto robusta d'altronde se vinciamo un contest considerate che già vinciamo 3 big blind il che non è poco nel lungo periodo uno degli aspetti più importanti è cercare di vincere quanti più bui possibili e un contest si fanno vi assicuro la maggior parte dei soldi sto facendo pochissime 3 bet ma all'inizio non me ne preoccupo anzi avere un'immagine all'inizio estremamente chiusa può essere vantaggioso soprattutto in un'ottica reg vs reg cioè dove ci vedono molto passivi e poi magari loro andranno a leggere banalmente le statistiche dell'ad quindi di all the manager e poi quando si ritroveranno invece a doversi confrontare realmente con noi si accorgeranno che abbiamo un range totalmente diverso qui sto perdendo tempo sia perché devo mettere una notina verde sia perché comunque abbiamo uno spot interessante a cui ho sbagliato fare 30 mi è scappato il dito alla fine otteniamo il nostro effetto a volte i piatti limpati quindi quindi quelli dove si completa e si arriva così ma posso anche lasciarli andare senza problemi ci sono situazioni in cui ripeto li aggredisco ma non tutte non a caso ovviamente ci sta un po di fold finché arriva qualche mano interessante sto foldando a volte anche un po di più in genere si può anche aspettare allo zoom c'è il rischio di iniziare a a foldare veramente di tutto quindi bisogna sempre stare un pizzico attenti allora otto sette suited è molto al limite perché ci sono ovviamente dei player dietro che tipo sto spigo e sto lella che potrebbero chiamare ma mi sta bene perché comunque abbiamo dietro anche sto mark giudy il board è perfetto abbiamo gutshot più un progetto di backdoor di colore quindi andremo sicuramente a fare una continuation bet neanche esagero faccio proprio 57 per cento del pot non mi invento proprio nulla e ovviamente abbiamo tante carte su cui proseguire non per forza le carte che migliorano la nostra combinazione ci sono anche carte diverse che possono darci a livello rappresentativo una combinazione più forte quindi ci sono carte che possiamo provare a simulare e quindi il nostro avversario potrebbe provare a foldare ma qui togliamoci dai piedi non ci mettiamo soldi ho scelto anche di giocare due tavoli zoom per evitare che si crei confusione soprattutto per le per i novizi perché mi hanno scritto diverse persone dicendomi che comunque si corre il rischio di di creare un po di panico soprattutto giocando molte mani in diversi tavoli faccio proprio piccolo piccolo tanto tank ready proprio short qui è trippettato per andare brock cioè per mettere tutto lo stack con camorosino camorosino cap ok allora in questi casi quando chiamano cosa possono avere tante coppie mani a caso quindi farò check e non nascondo che se dovesse show vari chiamerò pure i colori non sono tanti nel suo range potrei addirittura ripeto essere buono con l'asso in tante situazioni e infatti vedi kt come kt ne poteva avere tante altre mani tipo k 9 k quindi in realtà se avesse puntato potevo anche pensare a chiamare una volta che però lui non ha puntato e soprattutto mi ha fatto vedere che è arrivato a river con k alta inizio essere preoccupato del mio potenziale call perché perché banalmente se scelgo di fare call e lui in questi casi facendo c'è che aveva kt beh che cosa dovrebbe bettare di blef forse la mia scelta non era diciamolo migliore possibile non so se avete fatto caso al fatto che punto a volte due a volte un po di più il motivo è che dipende tantissimo da quanto è lo stack effettivo delle persone alla mia sinistra qui vado a puntare non serve fare grande allo stesso modo qui si può fare addirittura più piccolo tanto è un tipo di board dove la puntata che faccio non cambia assolutamente l'esito della mano del mio avversario ovviamente a meno di puntate estremamente corpose robuste in generale non dovrebbe cambiare molto ok spiguz stavolta voglio che flotti più largo cioè voglio che lui chiami con mani con le quali non pensava di chiamare quindi preferisco fare una size un po più piccolina tra l'altro stanotte verde è molto vecchia può essere anche che sia un regolar del livello ma mai ce l'ho non la tolgo k donna marco tai ma immagino sia assolutamente un giocatore occasionale quindi in genere farei più grande come puntata di squeeze però ho sbagliato ancora però avendo lui uno stack così piccolo una puntata così grande non è necessario in questi casi anche variare un po le size di apertura non è che sia una cosa totalmente brutta cioè ci può anche stare qui facciamo il nostro race questo dovrebbe essere anche l'uno occasionale ok passa qua arriva bene vabbè qui avendo quattro c'è tre giocatori dietro dovrei avere veramente una fold equity enorme e quindi ciao nel frattempo comunico in questo video che il 29 gennaio quando faccio il video cioè adesso sto girando il video del 9 gennaio fra 20 giorni ci sarà il the best poker year lascerò il link su sui commenti di youtube quindi se vuoi andare a controllare cos'è e il corso ho cercato quest'anno di fare un qualcosa che non aveva mai fatto nessuno per un corso anzi un webinar inerente a tutto ciò che riguarda l'approccio al poker lo sviluppo del poker quindi si baserà per lo più sulle credenze limitanti che molti di noi hanno relativi non solo al poker ma anche alla vita un'analisi e pianificazione dell'anno perché molto spesso si sceglie di pianificare le cose in maniera errata e guarda dopo sette anni di professionismo e soprattutto dopo sette anni di coaching ho veramente visto di tutto quindi so esattamente cosa serve come poter aiutare le persone allo stesso modo lavorerò sull'exploiting cioè su come prendere un avversario o comunque come capire in che modo poter andare oltre le apparenze e far far diventare l'avversario pazzo se vogliamo usare questo termine quindi se vuoi avere delle informazioni puoi leggere tranquillamente lì il prezzo è veramente simbolico in relazione a quello che si avrà e soprattutto è un modo per iniziare l'anno in maniera per iniziare l'anno con uno sprint in più io spiego se gli tolgo la nota verde che comunque sembra praticamente un regolo ormai del livello allora continuiamo su stare le mani ha fatto uno squeeze con cappadonna nulla di che ok qui vediamo un po subito una cosa quanti potrebbero essere gli 8x in questo spot essendo lui un giocatore che gioca un tavolo e probabilmente un fish tantissimi quindi io mi faccio i fattacci mei in realtà se quello spot cioè quella situazione era giocata da un player che gioca tantissime volte in donkbet qui jackset è una buona mano per chiamare o comunque per fare action perché stiamo parlando di una situazione in cui ovviamente quella mano rappresentava un doppio backdoor qui mi sono mosso in doppio check ovviamente non c'è un motivo di fare nulla e a questo punto river proverò a simulare una una sorta di value all'ultimo d'altronde quale range avversario può avere dei kq suited può avere dei asso jack asso q e qualche mano tipo 10 10 9 9 quindi in realtà river non è che siano tantissime le mani quelle che le chiamano va qui su una puntata un po' più piccolo di questo player che presumibilmente è reg va diciamo che è difendibile non è male e qui qui si ride perché perché tecnicamente questa è un'ottima mano questa è un'ottima mano quindi qualcuno ci crede se siamo realmente noi e il problema è che qui noi rappresentiamo veramente pochissime combinazioni quindi l'unica speranza per noi è quella che ovviamente il nostro avversario se si chiude a colore o comunque si possa rappresentare qualcosa di più in realtà andremo semplicemente a affoldare tra l'altro l'avversario ci ha fatto capire che ci conosce quindi sono già estremamente convinto che non sia molto propensa al fold il motivo per cui ho fatto solo call al tunnel ripeto è che un avversario con un minimo di conoscenza capisce che in quella situazione noi non possiamo rappresentare tantissimo allora questo dragonese addoncato se non ricordo male è lo stesso player di prima purtroppo io ho sempre avuto un grosso problema di memoria mettiamo lo stesso perché noi rappresentiamo comunque diverse mani e poi ovviamente bisogna avere un po' di fortuna alla fine questo non mi sembra un giocatore propenso al fold quindi io faccio un ulteriore betta e arriva e siamo abbastanza bravi e fortunati però l'idea di base qual è? che in quella situazione se ha un 10 non folda mai quindi meglio provare a prenderli tutti in quel caso allora fransuars beh io nel dubbio avendo che non ricarichi a voi vi metto le notine verdi qui 5-5 in genere la passerei però avendo dietro un giocatore che comunque ha la nota verde e soprattutto non sembra essere un regular preferisco chiamare e lasciare che ovviamente lo spot si giochi da sé mi piace che uno dei tavoli sia con uno stack superiore cioè sia quasi di 200 big blind perché così possiamo anche provare ad analizzare situazioni differenti ok un esempio è questo veniamo donkati naturalmente faremo call visto i backdoor lui può avere tranquillamente 2-2-3-3 non li escludo mai dal suo range però vabbè io mi limiterò a fare call call e a questo punto a provare una piccola value betta in realtà potrebbe aver preso il 10 a caso con qualche sorta di jack t qg qt scusate qualche modo del genere oppure proprio avere 4-5 6-4 però è chiaro che io devo cercare di estrarre il massimo valore dai miei avversari e non posso puntare molto forte perché a parte qualche 9-7 credo fosse 9-7 sempre una di quelle mani sì 9-7 9-6 jack 9 non ci sono tante mani che mi pagano quindi devo provare a massimizzare proprio qualora avesse donkato delle mani totalmente a caso qui mi è scappato il dito volevo bettare vabbè lo farò ora bet bet non guardo neanche cosa fa lui al tarn non mi interessa giocherò bet bet non ha mai una combinazione forte inoltre che c'è dietro il flop questa preferisco foldarla c'è quel giocatore a 2,80 euro non mi interessa a volte posso anche evitare soprattutto la fascia a sosea sotto di aprirla specialmente a questi livelli a maggior ragione qui con un giocatore con 5 euro dal big blind quindi con solo i 50 bui non apro la solita size di 3 big blind ma la faccio un po' più piccolina se dovesse fare una 3-bet pierino che cercheremo subito di capire se è un reg gioca a 2 tavoli ok Tommy decide di giocare io mi faccio i fattacci miei col mio 9 se arriviamo allo showdown e vinciamo mi piace preferisco evitare potrei addirittura provare a bettare però io credo che ci siano poche occasioni di far foldare tante mani qui viene un'apertura molto grande a sosea sotto le chiamiamo ma proveremo adesso semplicemente a stillare il pot nulla di eclatante alla fine se check folda non serve neanche puntare grande qui c'è questo veramente a 7 bui non posso fare niente assolutamente niente ovviamente se dovessi mettere a qualcuno una nota verde magari mi guarda il video e mi vuole insultare cioè chiedo ovviamente perdono nel senso che il mio verde è inserito come giocatore occasionale ma non come un insulto essere un giocatore occasionale non significa essere scarsi significa semplicemente non avere un approccio professionale al gioco da buon venditore dovrei dirvi che una saggia scelta sarebbe quella di iniziare da uno dei miei corsi soprattutto perché ne sto creando moltissimi e vi annuncio anche in questo video in anteprima nazionale ovviamente spero si colga l'ironia beh qui continuo a chiamare visto le size veramente piccole e qui mollerò che sto lavorando spero di trovare il tempo soprattutto nei prossimi 30 giorni alla stesura di un libro che rappresenti racconti la mia storia nel poker in maniera da poter fornire soprattutto delle ottime linee guide e magari degli spunti advanced a dei player che sono più navigati e quindi giocano da più tempo molti me l'hanno chiesto perché ho sempre prodotto video ma poche volte si è trovato in giro del materiale cartaceo di livello quindi voglio fare qualcosa che sia veramente di livello l'idea è scriverne due uno un po' più basico uno veramente advanced ci lavorerò diciamo ci sto già ho scritto un po' vediamo se troverò lo spazio allora sto trullo cash sempre quel giocatore di prima io preferisco arrendermi una cosa che avrei fatto in generale è provare a mettere una mano davanti alle carte e puntare come se non ci fossero un domani ma mi arrendo e basta non voglio proprio puntare nulla anche perché ho paura che sull'avvento di una quadri lui possa scegliere comunque di non passare in nessun modo quindi faccio i fatti miei anzi sono curioso di vedere se fa ancora check back che arriva però se ci prova in qualche modo non ha provato neanche una volta a fare qualcosa con il suo 9-7 suited ci ha provato proprio in nessun modo a farci foldare questo è anche interessante sono già due informazioni che abbiamo ricevito in un attimo allora delita delita leather 4 tavoli zoom non ricarica allora partiamo da una piccola continuation bed uno dei board più dry del mondo qui difendo semplicemente che la puntata è talmente piccola che mi basta vedere un qualsivoglia flop e provare a questo punto a fare un piccolo steal per rubare il buio quando lui fa check ovviamente se dovesse reagire io non mi vado sicuramente a impelagare in una situazione difficile lui mi saluta lo saluta anch'io come conoscono tutti porca miseria non si può giocare manco in incognito e ovviamente foldiamo ci sta che ovviamente nel suo range di check ci stiano delle mani buone infatti non avevo nulla assolutamente in contrario alla sua mano però semplicemente io devo provarci una volta che difende estremamente luce poteva anche check e poi ribettare dopo però credo che la scelta sia simile allora questo potrebbe essere non regolar visto che abbiamo veramente dimostrato una estrema tranquillità in gioco proviamo una 4 bet su squeeze molto marginale perché in genere gli squeeze a questi livelli sono super 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 reali infatti come immaginavo quello che sta facendo lui è semplicemente quello di rappresentare quello che ha realmente cioè il nut se fosse stata fatta questo squeeze da un giocatore con uno stack più grande sicuramente avrei chiamato bisogna sempre considerare che la gente è molto 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 più chiusa di quello che sembra vabbè qua tanto è inutile 5-3 non posso fare nulla jack 2 non l'apro qui asso jack a sinistra due player ma anche qui mi arrendo facilmente sì c'è un gadget ma non mi interessa una mano giocabile era ovviamente qualcosa con vector ma ci sta overfoldare un pochettino non è assolutamente un errore voglio farmi cambiare il nick voglio diventare bandito 22 una roba del genere in modo che nessuno mi scopra qui c'è un'apertura molto larga per i tempi moderni non si apre quasi più 4x però non per questo vuol dire che è sbagliato assolutamente facciamo call da bottone invece ho notato questo kill 10 credo di non giocarlo da parte le volte che ho fatto i video non l'ho mai giocato in realtà non i mid 10 però mi sono reso conto che molti giocatori tendono ad essere estremamente non so come definirli estremamente aggressivi in certe situazioni più di quanto mi immaginassi quindi questo è molto interessante allora vediamo un attimino qui proviamo subito una puntata per valore chiaramente rischiamo a volte di essere reisati ma ci sta qui purtroppo l'asso non è il massimo anche perché credo che tanti ass x vengano limpati e a questo punto speriamo solo che lui abbia qualche 6-5 6-4 4-3 5-3 male di questo genere vabbè molte volte sono ottimista io me ne rendo conto sono un inguaribile ottimista perché gli avversari tendono a stupirmi sempre in ogni situazione io vorrei capire lui cos'è dovrebbe essere un casual player vabbè vado a foldare sì sto pensando a chiamare ma generare questi multiway non è che abbia tantissimo senso k9 suited lo foldiamo facciamo call con 10-9 suited 7-20 foldiamo 10-9 penso di circolare in maniera abbastanza facile sì non ci sono classi alternative quello che dovesse bettare jack t avrei aperto ma non si può ecco l'assun è proprio il massimo è assolutamente proprio il massimo però vabbè proviamo ad arrivare a questo punto allo showdown in maniera easy kq direi di tribettare assolutamente sì c'è un problema di canzoni mi sta dando un po' fastidio questo è il rischio quando ascoltiamo canzoni se non c'è una playlist vostra io poi ascolto molta musica italiana vediamo un po' vediamo un po' vabbè fermiamoci qua allora k7 la foldiamo non ci sono molte mani interessanti vediamo se spunta qualcosa bello che ho scelto lo zoom apposto ho detto prima che poi si comincia che ci sono troppe pokemon bla 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 ho detto adesso scegliendo lo zoom caspita voleremo andiamo a stillare k3 sud assolutamente cercherò di essere un po' più rapido ok assodon è certamente uno squeeze k2 sud 70 volt ho fatto leggermente ho tolto qualcosina perché comunque l'oppo che apre non è super deep ecco qua in 3 way paired cioè non ha molto senso non è bettare qua si potrebbe provare a far qualcosa nel senso che proverà a rappresentare il k e fare bet shove ma il problema è che uno dei k potrebbe essere nel range dei miei avversari quindi preferisco arrendermi ah una cosa dovevo fare ho sbagliato era quello di vedere come andava la mano allora preferisco evitare questi complete perché si rischia secondo me soltanto di creare confusione assolutamente ok mentre quello che succede sulla destra è già diverso ci sono diversi progetti aperti io quello che andrò a fare è un brace voglio provare a prendere di nuovo il possesso di questo spot ci sono sì degli ASX nel mio avversario ma ci saranno anche un sacco di mani totalmente a caso quindi preferisco assolutamente bettare ok ok possiamo un pugno di fold allora fold anche qui chiamiamo con 4-4 purtroppo il board non è il nostro migliore amico facciamo altri 5 minuti dai allora ASSOK vediamo tribbettati da questo player in generale una volta sarebbe stato 4-bet questo dovrebbe essere a questo punto un regular mi limito al call ovviamente non avendo backdoor di nessun tipo io ipotizzo andrà a cibettare close to 80-85% quindi mi limiterò a un facilissimo fold se c'è il problema di arrivare alla shutout dovremmo essere anche noi ogni tanto buoni qui vado a tribbettare avendo una player soprattutto trovandomi in una situazione in cui siamo veramente deep quindi voglio giocarmi sicuramente il tribbettato contro di lui così come qui siamo in bvb quindi si può tribbettare tranquillamente se dovesse forbettare posso ancora chiamare guardate quanto stack effettivo c'è alle spalle qui ci isoliamo tavolo sulla destra allora c'è sicuramente un'isolation e sicuramente una continuation bet da fare perché faccio finta che l'un big blind non esista e beh direi di continuare a bettare soprattutto perché il k può essere buono per noi il jack può essere una scheri per lui e a volte semplicemente si betcola a caso in questa situazione allora squalo caro amico mio squalo cosa facciamo con te facciamo una delay perché sulla prima potrebbe decidere di non foldare se qui sceglie di non bettare o comunque di fare una bet molto piccola posso provare io una linea diversa beh qui devo togliermi non mi era accorto di palomba ma alla fine sono vissute e può essere in testa sicuramente con un open per valore posso cercare tranquillamente tanto se palomba a betta ci vado rotto e se quello si toglie dai piedi è meglio se chiama o rise facciamo veramente tante risate beh chiamiamo anche uno ovviamente abbiamo flash troppo se dovesse pushare e chiamare ovviamente un call per odds se dovesse cercare back non mi dispiacerebbe affatto perché comunque ci vediamo comunque il river senza uscire un euro allora qui in termini di potozzo ovviamente devo mettere perché perché allora il jack ci dà scala ci sono le picche quindi call ovviamente cioè le fiori volevo dire le picche in centro non assolutamente nulla ecco questa era l'unica cosa che un po' mi spaventava perché io adesso non mi aspetto mai di essere bettato in bluff quindi farò una cosa farò 2 euro e 50 per foldare perché perché alla fine se cecco io mi aspetto di essere praticamente 100% delle volte bettato finto cioè scusate bettato vero volevo dire e quindi preferisco prendere io l'iniziativa se push ovviamente è meglio allora 1 euro perché mettiamo 1 euro perché possiamo ancora prendere valore si poteva fare ancora più grande però una piccola parte di me sperava che ecco sperava che una di queste mani a caso rise ass perché perché comunque stimolata dal fatto che la puntata era estremamente piccola infatti l'idea era fare tipo 0,95 poi ho pensato anche che potesse avere delle donne x e chiaramente quelle sono forse di più e quindi in realtà la size poteva essere un po' più grande 5-4 suited poteva essere uno squeeze facile ma avendo il giocatore che ha aperto pochi bui il palermitano scelgo di fare di meno nel frattempo ci mettiamo in stop si è messo sì allora 5-4 suited size molto piccola da parte dell'open race proviamo un race alla fine abbiamo gutshot più backdoor cioè più flashdoor quindi sembra anche provare il casino se dovesse tribettare ma se dovesse fare call con questa size piccola è raro che qui si scelga ovviamente di bettare molto grande faremo una betta ancora al tanno con il nostro colore e uno shove a river ovviamente se ha colore più alto bravo no problem rientra in quelle che si definiscono cooler 5-9 suited si potrebbe aprire quindi aspettiamo un attimo vediamo che canzoncina giro nel frattempo che cos'è sto 11 blocks la mia ignoranza musicale soprattutto per le canzoni che sono più nascite è incredibile facciamo piccolino bella questo mi piace passo 9 si può assolutamente aprire non così cuttisuit invece si 6-5 si poteva aprire ma rinuncio ok 35 minuti di video assolutamente free e sono felicissimo di averlo fatto per qualsiasi cosa usate anche i commenti e guardate sotto perché ci sono sicuramente molti link interessanti soprattutto quello relativo al 29 un abbraccio da parte di Alberto Prasti e a presto